Buongiorno a tutti, mi c'è Passaggio di Sport, ben ritornati su Moliarions Pro Channel e sono il Sanderson per prepararvi delle finali e semifinali di nuoto in questa quinta giornata di Olimpiadi a Tokyo 2020, tra parentesi 2021. In generale è stata una nottata amara per l'Italia, soprattutto nel canottaggio dove abbiamo avuto veramente grossissime delusioni. Mentre per quanto riguarda il nuoto è stata una nottata dolce amara. Abbiamo avuto delle note positive, abbiamo avuto delle note negative, per quanto mi riguarda sono state più le note negative che quelle positive, però insomma abbiamo conquistato una medaglia, abbiamo visto comunque delle ottime prestazioni, insomma, comunque non è stata diciamo pessima come giornata, anche se mi aspettavo qualcosa di più. Comunque partiamo subito con una gara che descrive benissimo quella che è stata la nottata del nuoto azzurro, la semifinale dei 100 stili libero maschili, dove abbiamo avuto una nota molto positiva e una nota molto negativa. La nota molto positiva è quella di Alessandro Mieressi, che si qualifica per la finale con il terzo tempo totale alle spalle di Klimen Kolesnikov e Caleb Dressel, dopo aver insidiato il fenomeno statunitense nella prima semifinale. Mentre la delusione arriva da Thomas Ceccon, Thomas Ceccon che chiude settimo nella sua seconda semifinale e dunque non riesce a qualificarsi per la prova di domani. Thomas Ceccon che in batteria aveva fatto registrare il miglior tempo, sbriciolando il suo personale, una prestazione monstre del classe 2001 di Tiene, un'olimpiade fantastica per lui dopo aver conquistato un argento nella 4% stile libero e un quarto posto veramente a pochissimo dal bronzo anche lì, tanta amarezza per una medaglia che era veramente ad un passo nei 100 d'orso e quest'oggi appunto delude dopo aver fatto una prova monstre nella giornata di ieri. Non è ancora finita l'olimpiade per il giovanissimo Veneto, gli mancano ancora le finali appunto le prove insomma del 4% mista sia maschile che mista mista, penso che verrà schierato anche lì. Insomma comunque un'olimpiade ottima per lui che è un passo importante per il suo appunto, per la sua crescita. Passiamo dunque alla seconda gara, la finale dai 200 stili libero donne, l'ultima gara individuale per Federica Pellegrini alle Olimpiadi, mi vengono i brividi solamente a pensarci, è stata veramente l'ultima gara Federica Pellegrini in lacrime appunto dopo la gara per l'emozione, per questi 20 anni sostanzialmente ad altissimi livelli e dall'anno prossimo appunto non la vedremo più. Federica Pellegrini che chiude settima, non ci potremmo aspettare molto di meglio, già essersi qualificata per la finale è una grandissima cosa, quinta finale olimpica consecutiva nella stessa gara, cosa mai riuscita nessuna donna nel nuoto, è riuscita solamente a Michael Phelps se non sbaglio nei 200 delfino a livello appunto maschile. La vittoria va ad Ariane Titmus che fa doppietta, dopo aver vinto i 400 vince anche i 200, la classe 2000 australiana è veramente strepitosa, è una delle stelle di questa Olimpiade. Dopo che Hong Kong è rimasta in testa sostanzialmente per 300, per 150 metri con Huggy, poi arriva il sorpasso appunto di Titmus, le decchie addirittura fuori dal podio con appunto Pellegrini in settima posizione. Emozionatissima nell'intervista post gara. Passiamo dunque alla finale dei 200 delfino uomini, la nota positiva di questa nottata azzurra. Partono fortissimo Chad Leclo e appunto Milak, bene Burdi 600, un decimo dietro Leclo, nella terza vasca Milak decolla ma Federico Burdisso riesce a difendersi, a attaccare o meglio Chad Leclo, non riesce a difendersi dal giapponese Honda ma comunque chiude in terza posizione, quindi medaglia di bronzo per Federico Burdisso. Ne ho dedicato un video apposto in cui parlo più ampiamente della prova appunto del giovane notatore italiano, oro appunto per Christophe Milak, non una grandissima sorpresa, argento per Honda, questa invece è una sorpresa, e bronzo invece per Burdisso. Passiamo dunque alla finale dei 200 delfino donne, d'ora in poi diciamo le gare le ho seguite pochino perché c'era anche la cronometro femminile, ne ho dedicato un video apposta, c'era il canottaggio, c'era la scherma, c'era il judo, c'era di tutto di più in questa nottata appunto olimpica. 200 delfino donne che vede appunto per quanto riguarda le semifinali il dominio di Zhang qualificata davanti a Flickinger, Kapash e Smith. Nei 200 misti la vittoria va alla giapponese Ohashi, già vincitrite di 400 misti. Katinka Ossu è fuori dal podio, ancora una volta fuori dal podio, Katinka Ossu non riescerà, non è riuscita a vincere una medaglia in queste Olimpiadi. È terminata un'era, è terminata un'era. Nei 1500 stile libero arriva la nota dolente di questa nottata azzurra, la nota dolente maggiore di questa nottata azzurra. Simona Quadarella non arriva a medaglia. Simona Quadarella, campionese del mondo dei 1500 stile libero, non riesce a salire nemmeno sul podio di queste Olimpiadi. Veramente una grossa delusione, si è spenta la luce, mai vista una Quadarella così, purtroppo è così. Katie Ledecky vince, si rifà dopo aver perso i 200 stile libero, si rifà dopo aver perso i 400 stile libero. Katie Ledecky riesce a vincere la gara praticamente rimanendo in testa dalla prima all'ultima vasca. Una prova strepitosa di Erika Sullivan che era indietrissimo, ha recuperato tantissimo, ha sorpassato prima la Wang, poi la Quadarella, poi la Kohler. È andata l'inseguimento di Ledecky, veramente una prova strepitosa della statunitense, quindi doppietta USA, con la terza posizione occupata da Sarah Kohler, la grande rivale di Quadarella a livello, appunto, europeo. Purtroppo, invece, Simona Quadarella si spegne ai meno 1200 metri, ai meno 300 metri, appunto, dopo 1200 metri di gara. Si spegne completamente la luce, dopo che era riuscita a rimontare la cinese Wang, portandosi dietro, la Kohler esplode, sostanzialmente salta in aria e chiude solamente in quinta posizione, distantissima, praticamente oltre 20 secondi da Katie Ledecky. Terza posizione, appunto, per la Kohler. Wang chiude in quarta posizione, dopo essere anche lei calata nel finale, mentre la Kohler ha fatto una grandissima prova, dapprima seguendo Simona Quadarella, poi attaccandola. E proprio in quel momento è arrivata la crisi della nostra giovane atleta romana. Per quanto riguarda, invece, la 4x200 stile libero maschile, anche qui un po' di delusione c'è per il quinto posto dell'Italia, anche se chiaramente le aspettative erano più masse rispetto alla gara precedente di Simona Quadarella. Deludono gli Stati Uniti, deludono gli Stati Uniti che crollano completamente nella terza frazione. Se non sbaglio sono comunque riusciti ad andare a conquistare il bronzo, ma non ne sono nemmeno sicuro. Forse sono addirittura usciti fuori dal podio, una cosa incredibile vedere gli Stati Uniti fuori dal podio in una staffetta di nuoto. Comunque la vittoria va alla Gran Bretagna, Gran Bretagna guidata da Thomas Dean. Per l'argento va all'Australia, che schiera ancora una volta il migliore in ultima frazione e fa una rimonta incredibile. E terza posizione, appunto, non ricordo onestamente se ci sono arrivati gli USA oppure l'altra carriotta, se non sbaglio fosse, era la Russia, una grandissima frazione.